Musica Ben ritrovati in nuova edizione del TV giornale di Telestense, tra le varie apriremo tra poco parlando di cronaca perché c'è stato un furto alla Sant'Anna di Cona, rubarti computer e farmaci parleremo anche di politica perché Bonaccini va ufficialmente in Unione Europea e si è dimesso da Presidente della Regione sentiremo dunque le sue dichiarazioni proprio nell'ultima giornata del suo mandato andremo anche in prefettura dove c'è stato un incontro per l'emergenza nutria ricordiamo che c'era stata una manifestazione di col diretti soltanto pochi giorni prima e poi torneremo sulla cronaca, sorpreso a rubare all'interno degli uffici arrestato un 53enne parleremo anche di un'emergenza, esorbitante numero delle domande di supplenza presentate alle scuole e poi ci occuperemo del meteo di questi giorni perché le ondate di calore che stanno contraddistinguendo l'Italia intera compreso il territorio ferrarese proseguiranno almeno per un'altra settimana ci occuperemo anche di vacanze, vacanze con i fiocchi anche perché Avis è in prima linea per la sicurezza delle strade ma cominciamo subito parlando dunque del furto con scasso la notte tra il 10 e l'11 luglio presso il reparto di dialisi dell'ospedale di Cona i ladri si sono introdotti nelle stanze di indegenza dell'unità operativa forzando una porta di ingresso una volta introdotti all'interno dei locali i malviventi si sono appropriati di 6 computer portatili e diversi farmaci ad accorgersene sono stati alle 7 del mattino gli infermieri arrivati in reparto per iniziare l'attività di assistenza dopo un sopralluogo curato e verificato su cosa era stato rubato è stata fatta regolare denuncia al posto di polizia del Sant'Anna l'azienda valuterà ulteriori rinforzi e miglioramenti sul fronte della sicurezza e dunque parliamo di politica adesso perché il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha firmato la lettera di dimissioni e le ha comunicate alla presidente dell'assemblea legislativa Emma Petitti un atto dovuto che fa seguito alla elezione di Bonaccini al Parlamento europeo stante l'incompatibilità delle due cariche e in coerenza con l'annuncio dato da lui stesso in aula nella seduta dell'assemblea dello scorso 26 giugno e quindi a questo punto sentiamo la voce di Bonaccini al termine di questa conferenza sono stati anni per certi aspetti anche faticosi se guardiamo alle tragedie che abbiamo vissuto tra terremoto, pandemia e alluvione ma anche anni importanti su altri tanti aspetti gratificanti i numeri che abbiamo dato ieri nel patto per il lavoro e per il clima con tutte le parti sociali che ho ringraziato una ad una per il lavoro straordinario fatto insieme in questi anni i numeri primati in campo economico sociale che abbiamo raggiunto a livello non solo nazionale alcuni anche a livello europeo dicono di una regione che rispetto a come trovai dieci anni fa dentro a una recessione, a una disoccupazione triplicata, insomma oggi è molto più forte di prima c'è tanto da fare, ci sarà tanto da fare, un mondo che cambia sempre così rapidamente che chi verrà ha il dovere di cambiare, innovare e migliorare continuamente però devo dire che è stato un privilegio poter guidare una regione come questa sia per la qualità di chi lavora in regione Emilia-Romagna e parlo dei dirigenti e dei dipendenti e sia per la qualità delle persone che qui vivono, lavorano, studiano, fanno impresa vengono da altre parti a darci una mano, persone mediamente come avete visto capaci di rimboccarsi le maniche e lamentarsi poco anche quando ci sono tragedie Presidente, contento di questa staffetta con il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ma adesso intanto proprio nella giornata di oggi il Partito Democratico regionale farà la propria scelta immagino che l'investitura vada in quella direzione le parole di autorevoli persone e personalità come Vincenzo Colle e tanti altri che avrebbero potuto ambire lui, Rene Priolo, altri assessori della mia giunta o altri sindaci e sindache del territorio regionale per la parte che riguarda il Partito Democratico poi però c'è da mettere insieme la coalizione e quindi non può bastare che vada bene al Partito Democratico un nome o un cognome, ovviamente per quanto mi riguarda il giudizio che posso dare di Michele che conosco benissimo, è un giudizio estremamente positivo, Michele è una persona che ha grandi qualità sia amministrative che umane, ha una lunga esperienza pur giovane, molto più giovane di me sia dal punto di vista politico che amministrativo e io non ho dubbi che se toccherà Michele De Pascale guidare il centro-sinistra in questa campagna elettorale e ci auguriamo vincere io non ho dubbi che Michele sarà meglio di me nei prossimi anni. Abbiamo visto che in molte elezioni territoriali, non solo in Emilia Romagna ma anche in Emilia Romagna tante volte a livello amministrativo si sono aggiunte anche liste civiche a liste di partito o di movimenti politici laddove persone, personalità non vogliono stare nei partiti ma contribuire a stare insieme a alcuni partiti per provare a vincere e a governare quindi però questa è prematura oggi ragionare di questo. Quello che posso dire mi auguro ci sia un centro-sinistra largo, compatto e che possa portare nelle proprie file anche personalità civiche che poi stiano in liste di partito o ci sia bisogno di una lista come quella che composi io poche settimane prima del voto questo lo decideranno, si vedrà insomma. Questa è l'ultima conferenza di Stefano Bonaccini in qualità di presidente della regione Emilia Romagna ma adesso invece torniamo a Ferrara per parlare del piano regionale di contenimento della proliferazione delle nutrie nelle campagne si è riunito infatti in prefettura il tavolo istituzionale per fare fronte a questa emergenza sentiamo cosa è emerso. Il prefetto Massimo Marchesiello ha coordinato a Palazzo Giulio d'Este una riunione del tavolo istituzionale che da tempo monitora le criticità connesse alla eccezionale proliferazione della nutria sul territorio provinciale, specie classificata come infestante per l'ecosistema e causa degli ingenti danni arrecati alle coltivazioni e alle opere idrauliche in gestione ai consorsi di bonifica. La riunione segue di pochi giorni la manifestazione di protesta organizzata sul tema dalla segreteria provinciale di Coldiretti il 10 luglio con un presidio proprio davanti alla sede della prefettura. Nel corso dell'incontro è emersa una situazione definita dalla situazione di categoria fuori controllo con profili di rischio anche per l'incolumità pubblica nei casi di cedimento delle arginature dei canali a causa degli scavi operati dal roditore. L'incontro successivo, che ha trattato marginalmente anche il problema della presenza sul territorio di Cinghiali, ritenuta per il momento non preoccupante per l'eventuale trasmissione della pesta suina negli allevamenti di suini dell'Alto Ferrarese, ha quindi rappresentato l'occasione per fare principalmente il punto aggiornato della situazione sull'efficacia delle strategie di contenimento della nutria. L'emergenza rappresenta un fenomeno piuttosto preoccupante. Nel periodo che va dal 1 gennaio 2024 all'11 luglio scorso sono stati abbattuti 28.000 capi con un incremento di circa il 13% rispetto allo scorso anno. L'attività di abbattimento è condotta principalmente da cacciatori abilitati a coadiuvare il personale della Polizia Provinciale nell'attuazione del piano regionale di contenimento. Dal punto di vista operativo, il Consorzio di Bonifica Pianore di Ferrara ha assicurato che coordinerà la sua attività di pulitura delle arginature, dove spesso si annida la nutria, con quella della Polizia Provinciale, in modo da concentrare l'attività di abbattimento su aree ben delimitate e ottenere migliori risultati rispetto ad una generica operazione a largo raggio. Sarà inoltre importante affinare la collaborazione tra agricoltori e coadiutori nell'attività di trappolaggio, avendo cura di ottimizzare l'impiego delle gabbie e concessi in uso della provincia ai titolari dei fondi agricoli e purtroppo spesso vandalizzate all'interno di aree private. Per questa attività di contrasto alla proliferazione del roditore, la Regione Emilia Romagna, che ha messo a punto il piano di contenimento in accordo con le indicazioni fornite da Ispra, ha assicurato lo stanziamento di risorse specifiche a beneficio della provincia. Alla riunione erano presenti i vertici di questura, carabinieri forestali e Polizia Provinciale, una delegazione di coadiutori, i rappresentanti della segreteria provinciale e dell'associazione di categoria, il presidente del consorzio di bonifica a pianura di Ferrara, mentre in collegamento da remoto hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Argenta e Bondeno, Regione Emilia Romagna e Ispra. E adesso torniamo sulla cronaca, perché sono circa le 3.40 del 12 luglio, quando il sonno di un dipendente di una delle società con sede in alcuni uffici condivisi in via Ortigara, viene interrotto dal suono di un allarme. Si tratta infatti del segnale emesso dall'impianto installato appunto sul luogo di lavoro. Dalla visione delle telecamere remotizzate presso la sua abitazione, l'uomo nota la sagoma di un uomo a girarsi nei corridoi della sede lavorativa e immediatamente scatta la telefonata al numero di emergenza 112, che segnala un furto in atto. In pochi minuti giunge sul posto un equipaggio della stazione di Corso Giovecca, che entra nell'edificio per perlustrare i locali. Dopo poco i militari notano una figura maschile, che cerca di allontanarsi velocemente verso l'uscita, ma lo rincorrono e lo bloccano. L'uomo, 53 anni, cittadino italiano, era travisato con un cappellino da baseball e portava con sé uno zaino. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso, occultati nello zaino, di attrezzature elettriche, quali microfoni, cavi, adattatori ed un mixer, per un valore quantificato in 2.500 euro circa, trafugato dallo stesso poco prima dai locali, che risultavano infatti forzati. Al termine delle operazioni, l'uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e trattenuto presso le Camere di Sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara. Presso il Tribunale poi l'arresto è stato convalidato e lo stesso è stato rimesso in libertà, con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, due volte alla settimana, in attesa della celebrazione del processo. Adesso invece parliamo di un'altra emergenza, ovvero del numero esorbitante delle domande di supplenza presentate alle scuole che preoccupa la CGL. Il sindacato di categoria, ovvero la FLC, chiede di incrementare urgentemente l'organico del personale scolastico. Sentiamo. Sono scaduti di recente i termini per la presentazione nelle scuole delle domande di supplenza e le sedi del sindacato sono state prese d'assalto da migliaia di candidati, docenti e atta. A spiegare in un comunicato stampa la FLC CGL dell'Emilia-Romagna, in prima linea per aiutare i candidati a superare le difficoltà di inserimento nelle graduatorie. Anche se non ci sono ancora dati ufficiali, si stima che a livello nazionale siano state presentate oltre 2 milioni di domande. In Emilia-Romagna più di 12 mila persone si sono rivolte alle sedi sindacali per ottenere assistenza e supporto. A questi si aggiungono molti altri che si sono rivolti ad altre organizzazioni sindacali della regione. L'alto numero di domande presentate è una sfida significativa per le segreterie scolastiche che durante i mesi di luglio-agosto devono gestire le complesse procedure per garantire l'utilizzo delle nuove graduatorie e il conferimento delle supplenze entro il primo settembre. Una situazione, spiega CGL, che sottolinea la grave carenza dell'amministrazione scolastica. Quest'ultima in pratica delega tutte le inconvense alle scuole senza fornire organico aggiuntivo, lasciando gli istituti scolastici a gestire da soli le criticità. Una situazione già denunciata più volte, continua CGL. Non è accettabile arrivare all'inizio dell'anno scolastico con graduatorie non utilizzabili. Si tratta di un'emergenza che può essere risolta solo con un incremento dell'organico del personale scolastico, sia docente che ausiliare tecnico-amministrativo, continua CGL. Ma bisogna agire in fretta, spiegano i sindacati, perché siamo già in emergenza. E c'è un'altra notizia di cronaca. Una chiamata alla centrale operativa dei Carabinieri di Ferrara da parte di un cittadino per segnalare un litigio tra due persone in via Tittosperi ha permesso ai militari di arrestare una donna che aveva un ordine di carcerazione a suo carico. L'equipaggio della sezione radiomobile dei Carabinieri, arrivato nelle vicinanze del luogo indicato, ha individuato i due litiganti ed è successo alle 4 del mattino di venerdì 12 luglio. Dopo i controlli e dai documenti esaminati attraverso la banca dati, è risultato che la donna di 38 anni di cittadinanza italiana aveva un ordine di carcerazione messo dalla Procura della Repubblica di Chieti. Per concorso in ricettazione truffa e deve scontare due anni e quattro mesi di reclusione. Al termine delle operazioni la donna è stata arrestata e condotta alla casa circondariale di Bologna. Adesso invece parliamo di condizioni meteo. Come sapete, in questi giorni il caldo è aumentato in maniera piuttosto importante, ma è destinato a non esaurirsi a breve, perché pare che avremo un'intera settimana con temperature piuttosto elevate. Sentiamo il servizio. Dopo una temporanea attenuazione legata agli effetti della circolazione depressionaria attiva sull'Europa centro-occidentale con piogge temporali al nord-ovest, tra la giornata di domenica e la prossima settimana l'anticiclone nord-africano tornerà a rinforzarsi sull'Italia, alimentando una lunga e significativa ondata di calore. Seppur senza i valori record della scorsa estate, le temperature permarranno ben al di sopra delle medie climatiche, quantomeno fino al 20 luglio. Lo rende noto trabimeteo. I massimi effetti della nuova avvezione d'aria calda di matrice subtropicale sono attesi tra Basso Veneto ed Emilia Romagna, al centro-sud e sulle isole maggiori. Picchi compresi tra i 35 e i 40 gradi nelle valli interne in pianura, localmente superiori dai 41 ai 43 gradi, su tavoliere di Foggia, Murge, Tarantine, Materano, Metapontino e settori compresi tra l'Ennese orientale, la Piana di Catania e l'Alto Siracusano, a fronte dei tassi di umidità molto ridotti, 10-20%. Si registreranno elevati indici di disagio bioclimatico nelle grandi città, laddove all'avvezione d'aria calda e alla subsidenza impressa dall'anticiclone si sommeranno gli effetti delle isole di calore urbano. Nel caso di Roma, Firenze e Bologna, ma anche in parte della stessa Ferrara, che potranno sperimentare una lunga serie di notti tropicali. Adesso una notizia di pubblica utilità per tutti i viaggiatori, perché le segreterie territoriali di Bologna e Ferrara, di CGL, CISL, UIL, CISAL e UGL hanno comunicato l'adesione allo sciopero nazionale di 4 ore di tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL Auto Ferro-Tranvieri Internavigatori, programmato dalle segreterie nazionali degli stessi sindacati per giovedì 18 luglio. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari, TPER, dei bacini del servizio di Bologna e Ferrara, quindi parliamo di bus e corriere, lo sciopero si svolgerà dalle 11 alle 15 di giovedì 18 luglio. Negli orari di sciopero i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno dunque garantiti. Per i mezzi urbani, extraurbani del servizio taxi-bus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capolinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 10.45. Negli orari di sciopero ai call center telefonico 051 290 290 sarà garantita la presenza di un operatore e lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al servizio Marconi Express per il quale l'astensione è ugualmente prevista dalle ore 11 alle ore 15. L'azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare al termine dello sciopero un più celere e integrale ripristino del servizio. Quindi ricordiamo dalle 11 alle 15 di giovedì 18 luglio. Adesso invece cambiamo argomento perché quest'anno l'Avis ferrarese parteciperà con il proprio personale all'iniziativa Vacanze con i Fiocchi. Questa campagna regionale ha lo scopo di sensibilizzare gli automobilisti in partenza per le vacanze estive affinché adottino tutte le misure necessarie per viaggiare in sicurezza. A Ferrara appunto la mattina di sabato 13 luglio con i volontari dell'Avis saranno al casale di Ferrara Sud dell'A13 a distribuire volantini per promuovere una guida più responsabile. Sentiamo. Torna come ogni anno nel mese di luglio l'appuntamento di vacanza con i Fiocchi, la campagna di sensibilizzazione per gli automobilisti in partenza per le vacanze affinché adottino tutte le misure necessarie per viaggiare in sicurezza. Organizzata dal centro Antartide della regione Emilia-Romagna, la campagna sulla sicurezza stradale quest'anno vedrà la collaborazione dell'Avis che parteciperà attivamente all'iniziativa Meno sangue sulle strade e più sangue dai donatori. Il leitmotiv dell'Avis vuole incoraggiare non solo i donatori abituali ma anche chi non ha mai donato ad iniziare a farlo. Il legame tra sicurezza stradale e donazione di sangue è particolarmente rilevante poiché comportamenti imprudenti alla guida aumentano il rischio di incidenti soprattutto nei mesi estivi. Questo porta a un maggior numero di feriti proprio in un periodo in cui le donazioni di sangue tendono a diminuire. Per questo motivo la venticinquesima edizione di vacanza con i Fiocchi non solo promuove la prudenza alla guida ma invita anche gli automobilisti a donare sangue. Tra i comportamenti errati più frequenti alla guida la velocità troppo elevata è la causa del 44% degli incidenti. Di seguito ci sono la guida distratta e il mancato rispetto delle regole di sicurezza e precedenza, infrazioni che sono in costante aumento più 13% quelle rilevate dalla polizia stradale più 3,6% per i carabinieri. Per questo anche Ferrari e i volontari dell'Avis la mattina di sabato 13 luglio saranno al casello autostradale della A13 di Ferrara Sud a distribuire volantini per promuovere una guida più responsabile. Insieme ai volontari dell'Avis dalle 8.30 alle 11.30 ci sarà anche il personale della polizia locale terrestensi per ricordare a tutti che l'attività di donazione del sangue non va in vacanza. E adesso lo sport con il volley. Emilia Romagna è sempre più casa appunto del volley azzurro con la partita Italia-Argentina che si svolgerà il 18 luglio alle 21 alla Paladozza di Bologna. Un importante test che vedrà i ragazzi del CTF Fede Giorgi impegnati nell'ultima amichevole prima della partecipazione ai giochi olimpici di Parigi dopo l'incontro sempre con la squadra sudamericana in programma a Firenze il 16 luglio. E allora a questo punto sentiamo Gian Maria Manghi capo della segreteria politica della presidenza della regione. Siamo alla digiglia delle Olimpiadi che per Antonio Maggi sono la competizione più importante a livello mondiale e a livello sportivo. Il volley qua è di casa. Abbiamo vissuto tanti appuntamenti importanti. L'ultimo è il collegiale della nazionale femminile a Cervi la settimana scorsa con il saluto a Velasco e le ragazze che hanno vinto la Nation League. E questa partita che è anche un memorial quindi ha anche un significato particolare dal punto di vista dei ricordi di una persona importante per il mondo della pallavolo è la penultima partita della nazionale italiana prima della partenza per le Olimpiadi. Sono due nazionali a maschile e femminile che vanno con ambizioni all'appuntamento olimpico e quindi noi siamo molto orgogliosi nella Sport Valley di dare corpo ancora una volta a questo accordo con la FIPA con un accordo triennale che è uno dei più densi. E prima di chiudere parliamo dello sciopero attuato dai giornalisti e dai dipendenti di Telestense nella giornata di giovedì 11 luglio che vi parla è delegato dalla redazione. A seguito del protrarsi della mancata erogazione degli stipendi ai lavoratori e dopo il mancato rispetto dei tempi prospettati dalla proprietà per il rientro parziale delle mensilità arretrate i rappresentanti dei lavoratori assistiti dai sindacati SLCCGL e ASER che rappresentano giornalisti, tecnici e settore commerciale amministrativo di Telestense hanno attuato una giornata di sciopero nella giornata appunto di giovedì 11 luglio una protesta alla quale hanno aderito anche i colleghi di Telesanterno. È preoccupante la situazione in cui verso ormai da un anno l'emittente tv locale privata di Ferrara affermano nella nota congiunta i sindacati. Ciò nonostante quotidianamente tutto il personale si adopera per trasmettere l'informazione locale e la comunicazione istituzionale del territorio ferrarese preoccupa la mancanza di un piano industriale e quindi le ricadute sul futuro occupazionale dei dipendenti inoltre non si riscontra chiarezza evidente da parte della proprietà di avviare da subito un piano concreto di risanamento efficace per offrire una prospettiva a breve termine lo sciopero, concludono le sigle sindacali si è reso necessario per tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori ricordiamo che a fine giugno i dipendenti di Telestense e Telesanterno erano stati ricevuti dal prefetto di Ferrara ed ora sono in attesa della convocazione di un tavolo istituzionale con questa notizia siamo in chiusura vi ricordo come sempre Telestense.it e i nostri canali social per questi ulteriori aggiornamenti per cui grazie per averci seguito appuntamento come sempre rinnovato alla prossima edizione grazie a tutti grazie a tutti